Sicilia e Piemonte si incontrano in una cena a quattro mani, ma l'idea da cosa è venuta? L'idea è l'unicità di due territori, unire due territori all'apparenza così lontani, ma come diceva anche Cristian, molto vicini per tante cose. Tra l'altro la nostra amicizia, il nostro lavorare insieme con GSH, qua al Picciolo, quindi abbiamo deciso per questa bellissima serata. Sicuramente un progetto poi a settembre, sempre qua al Picciolo, con i vini dell'Etna, quindi siete attesi qua da noi. Sono piemontese di nascita e siciliano da deduzione, perché è da dieci anni ormai che lavoro in Sicilia. E in più per unire le tradizioni gastronomiche di queste due regioni, che una volta erano unite sotto il regno delle due Sicilie. E secondo me hanno molti punti in comune dal punto di vista gastronomico e si può giocare molto bene negli abbinamenti fra di loro. Abbiamo dei progetti che coinvolgono tutta la nostra catena, come potete ben immaginare con 18 alberghi, abbiamo 18 chef di culture differenti, di culture gastronomiche differenti. Il nostro intento è di portare all'interno della catena GSH una cultura del cibo a livello nazionale, non solo regionale, ma fare degli scambi culturali fra di noi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!